A confermare ulteriormente la sospensione del servizio di consegna a domicilio della spesa del supermercato di Via Muratti, nell'attesa di una risposta sul permesso di transito, il direttore d'ESPAR per il Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero, stiamo lavorando, sottolinea, per una rapida soluzione del problema. In effetti in un nostro punto vendita, quello di Via Muratti, la società che gestisce le spese a domicilio in questo momento è in difficoltà per le consegne nella ZTL, in quanto, li abbiamo appena sentiti, ancora non hanno ottenuto la risposta alla loro richiesta di autorizzazione per entrare nella ZTL. Stiamo lavorando per una soluzione velocissima e immediata, perché non possiamo assolutamente rallentare o fermare un servizio così importante per chi abita nel centro storico di Udine.